Il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia ha firmato l'ordinanza in vigore da domani finalizzata a tutelare i monumenti della città, in particolare quelli ai caduti e tutti i luoghi di interesse storico, artistico ed architettonico. Mascia annuncia denunce e sanzioni per chi imbratterà o deturperà in qualunque maniera i monumenti. Sono quindi vietate scritte o disegni di writer, il bivacco ed è vietato bere e mangiare ai piedi dei monumenti, come pure lasciare rifiuti. Coloro che saranno sorpresi in flagranza di reato non la passeranno più liscia annuncia Mascia. L'ordinanza resterà in vigore per sei mesi salvo possibilità di proroghe come previsto nel decreto legislativo che affida poteri speciali ai sindaci. Il primo cittadino vuole così attivare uno strumento normativo preciso per portare avanti un'efficace opera di contrasto contro le incursioni vandaliche e sarà verificata anche la possibilità di adottare ulteriori misuri di tutela e protezione dei monumenti principali come la videosorveglianza.